Buon pomeriggio a tutti, a me l'arduo compito di darvi il colpo di grazia finale illustrandovi più o meno quelle che sono i nuovi studi e le direzioni della ricerca. Per fare questo ho pensato di strutturare la mia presentazione in una parte introduttiva per capire da dove siamo partiti e i motivi per cui stiamo andando in certe direzioni e poi di addentrarmi meglio sullo sviluppo dei nuovi inibitori di GEC2, sulle nuove molecole in fase di sperimentazione, le combinazioni possibili e infine mi addentro un pochino sul trapianto di Midollo perché è un campo all'interno del quale c'è comunque una fervente attività di ricerca. Siamo partiti nel 2005 con la scoperta della mutazione di GEC2, l'abbiamo visto questa mattina, abbiamo visto questo interruttore e all'inizio sembrava abbastanza banale, evidente per noi che spegnendo l'interruttore del GEC2 potessimo facilmente spegnere l'interruttore della malattia. In realtà purtroppo questo è stato evidente sin da subito che non fosse il caso e la situazione è più simile a quella di un ampio groviglio di vie di segnale che sono di difficile comprensione. In effetti dal punto di vista delle vie di segnale come potete vedere questa è una semplificazione, numerosi sono gli attori che entrano in gioco e numerosi sono quelli che sono i farmaci che si stanno sperimentando per andare a colpire più vie di segnale. Gli inibitori di GEC2 sono stati i primi farmaci a essere studiati ovviamente, ruxolitini ne è stato parlato in maniera abbastanza ampia. Io passerei su quelli che sono in fase di sperimentazione, quelli che sono stati sperimentati e su possibili nuovi farmaci ancora in fase di sperimentazione. Due farmaci successivi a ruxolitini che hanno appena concluso il loro iter di studio sono sicuramente momelotinib di cui forse si è accennato questa mattina e pacritinib. Momelotinib è un inibitore molto affine a ruxolitini come meccanismo di azione ma sembrava all'inizio avere dei dati promettenti soprattutto in termini di miglioramento dell'anemia, quindi avere un profilo di sicurezza e di tossicità più favorevole rispetto a ruxolitini. È stato sperimentato in due grossi studi di fase 3 a cui abbiamo partecipato anche in Italia con i nostri centri sia in pazienti non trattati con inibitori di GEC2 sia dopo ruxolitini. Purtroppo, come si è detto stamattina, i risultati che ne sono usciti sono stati non del tutto favorevoli per cui per il momento questo farmaco è stato sospeso nel suo sviluppo. Discorso differente è per pacritinib che è un inibitore di GEC2 che anch'esso mostra una ridotta tossicità a livello di mindollare quindi ha un aspetto che rispetto a ruxolitinib potrebbe essere più favorevole. Questo farmaco è stato anch'esso sperimentato in molti centri anche italiani sia in pazienti non trattati sia in pazienti con piastrinopenia. Quindi una categoria di pazienti che sicuramente è più delicata e rappresenta uno zoccolo duro che con ruxolitini forse non riusciamo a trattare. E pacritinib effettivamente si è dimostrato efficace sia nel ridurre la milza sia i sintomi rispetto alla migliore terapia disponibile. Pur a fronte, c'è da dire, di un aumento dell'incidenza di eventi avversi in particolare di emorragie per cui era stato temporaneamente fermato il suo sviluppo ma sono adesso attivi e saranno programmati nuovi studi per valutare nuovi possibili dosaggi terapeutici. Altri inibitori di GEC. Abbiamo visto, vi ho mostrato all'inizio, come le vie di segnale sono estremamente varie quindi andare a cercare un farmaco molto selettivo verso una mutazione singola può non essere la strategia vincente. E quindi ci sono nuovi farmaci in via di sperimentazione che vanno a colpire non solo la mutazione di GEC2 ma anche altre vie di segnale. Per esempio questo NS018 va a colpire sia il gene GEC2 sia delle proteine che sono importanti nella proliferazione cellulare come le proteine SARC. Studi di fase molto preliminare, pazienti già trattati con inibitori GEC2 risposte in termini di milza sintomi con scarsa tossicità midollare. Ovviamente questi sono studi molto precoci, sono studi il cui primario obiettivo e di dimostrare la sicurezza del farmaco, non l'efficacia. Viste i profili di sicurezza si sta procedendo verso un ampliamento della casistica per capire se possono essere di beneficio anche nei pazienti con mielofibrosi. Nuove molecole e combinazioni. Vi è stato molto fermento anche nell'andare a cercare se ci potessero essere dei meccanismi alternativi per colpire la malattia e uno dei farmaci che è stato sicuramente più interessante è il risultato essere i metelstat. I metelstat è un inibitore delle telomerasi. Cosa sono le telomerasi? Sono fondamentalmente delle proteine che servono a regolare la lunghezza dei cromosomi. La cellula cosa fa? In particolare nelle malattie mieloproliferative cerca di sopravvivere allungando la dimensione dei suoi telomeri, cioè della parte finale dei cromosomi. Questo inibitore impedisce alla cellula di allungare la parte finale dei suoi cromosomi e la cellula va incontro a morte. Dati molto interessanti provengono dagli studi di fase 2, sono stati anche pubblicati 33 pazienti trattati, 30% di pazienti che rispondono sull'anemia e un 20% di risposte complete anche con regressione della fibrosi midollare a fronte però di una tossicità epatica e tossicità ematologica consistenti. Questo farmaco è attualmente in fase di sviluppo, in uno studio di fase 2 a cui molti centri italiani hanno partecipato, ma è attualmente sospeso l'arruolamento di pazienti perché è in corso un'analisi. Altri farmaci interessanti, Sotatercept, che è un anticorpo monoclonale contro il transforming growth factor beta. Altri farmaci interessanti, un induttore di apoptosi, che cos'è l'apoptosi? È il processo attraverso cui le cellule tumorali riconoscono di non essere funzionali e decidono di andare incontro a un suicidio perché vedono che non sono efficienti. Quindi farmaci che possono in qualche modo agire a livello della morte programmata. Sono ancora studi molto preliminari che evidenzano qualche risposta in termini di anemia e sulla splenomegalia a fronte di effetti collaterali comunque ancora gestibili. Combinazioni. Abbiamo visto l'efficacia di ruxolitinib, è stata mostrata ampiamente. Sappiamo i pregi di ruxolitinib, sappiamo benissimo i difetti. Sappiamo che la risposta sulla milza non si verifica in tutti i pazienti. Sappiamo che la risposta sulla milza si perde nel 50% dei pazienti. Però risulta il partner ideale a cui affiancare qualche molecola per cercare di migliorarne l'efficacia e ridurne gli effetti collaterali. Per cui era abbastanza intuitivo combinare ruxolitinib con farmaci che potessero essere attivi sull'anemia. Per esempio la prima combinazione che si è fatta è stata quella di valutare ruxolitinib insieme a pomalidomide e talidomide che sono due agenti monomodulanti che hanno mostrato negli studi separati prove di efficacia sull'anemia. Sono poi attivi e si apriranno anche in Italia studi con inibitori del transforming growth factor che hanno dato prova di efficacia ancora una volta sull'anemia. Ci sono studi in corso sulla zacitidina e sulla decitabina che sono farmaci che agiscono a livello del ripiegamento del DNA così come il panobinostat. Ci sono ulteriori combinazioni. Si può combinare ruxolitinib a inibitori di mTOR che sarebbe una proteina che agisce a livello di un'altra via di segnale che è molto attiva nell'amilofibrosi e anche in questo campo l'Italia è stato il paese all'avanguardia sulla ricerca in questo ambito. Ci sono farmaci che agiscono a livello della fibrosi midollare, il PRM151 che è un farmaco che inibisce l'azione dei fibrociti che sono quelle cellule che poi vanno a generare quelle fibrille di reticolina che abbiamo visto nelle precedenti foto. Esistono poi dei farmaci che agiscono a livello del ciclo cellulare, cioè che agiscono inducendo la cellula a replicarsi, a duplicarsi e a dare origine pertanto ad altre cellule dell'amilofibrosi come gli inibitori del checkpoint, delle cicline, scusate, delle cicline 4 e 6. Esistono poi inibitori della differenziazione come sonidegib. Ci sono tantissime molecole che sono in fase di sperimentazione e che hanno dato prova di efficacia sia in termini di riduzione della spenomegalia che di effetti benefici sulla fibrosi e sull'anemia laddove ruxolitimi effettivamente da solo non era riuscito ad arrivare. Finisco la mia tediosa discussione parlando un pochino di trapianto di midollo perché forse è quello che all'interno di queste sessioni dove si parla di nuovi studi rimane sempre un po' in disparte. Effettivamente anche il trapianto di midollo è un campo in estrema evoluzione. Questa è la fotografia dell'andamento dei trapianti in Europa con indicazione mielofibrosi. Vedete che dall'introduzione dei nuovi farmaci di ruxolitimi in particolare avvenuta nel 2012 il numero dei trapianti per mielofibrosi non è diminuito. È aumentato ulteriormente. È aumentato ulteriormente e chi sono i pazienti che sono andati a beneficiare di più del trapianto? Sono i pazienti ancora in età più avanzata. Quindi c'è una forte ricerca in ambito trapiantologico e c'è una maggiore espansione dell'età trapiantologica. E quali sono le prospettive di studi nel trapianto allogenico? Sono prospettive che coinvolgono la chemioterapia sia da quella precedente al trapianto sia anche la terapia però di condizionamento. Quindi della chemioterapia che poi condiziona il trapianto allogenico. Ci sono poi degli studi che valutano quale sia la fonte migliore di cellule staminali da adottare e quale sia il donatore più idoneo. Anche stamattina è emerso questo aspetto. Cioè il donatore da registro o il donatore familiare a plioidentico. E poi ci sono le terapie ovviamente nel post-trapianto che hanno lo scopo di ridurre il rischio di recidiva della malattia e le complicanze del trapianto che abbiamo visto impattano significativamente sull'aspettativa di vita. Regimi di condizionamento a confronto. Che cosa sta facendo e in particolare cosa stiamo facendo noi in Italia? Il gruppo italiano dello studio del trapianto di midollo osseo, GITMO, ha in corso uno studio di valutazione di quale sia possa essere il regime di condizionamento migliore nella milofibrosi. Questi sono i regimi di condizionamento, cioè le chemioterapie che noi facciamo ai pazienti che poi sono sottoposti a trapianto di midollo allogenico. Principalmente sono questi quattro. Il gruppo italiano ha deciso di valutare e confrontare due di questi schemi per capire quale può essere il più efficace nella milofibrosi. E stiamo aspettando i risultati di questo studio. Altri gruppi, in particolare quello francese di Roben, di Marie Roben, hanno valutato retrospettivamente il regime convenzionale che è il Buflu con il Flumel e hanno evidenziato che il regime Fludarabina-Melfalan è un regime che magari ha una tossicità maggiore ma che a lungo termine forse consente un maggiore controllo della malattia. Nuovi farmaci e trapianto. Abbiamo un nuovo farmaco, Ruxolitinib. Possiamo collocarlo all'interno del trapianto? La risposta è sì, ma quando? Prima del trapianto come ponte. Per arrivare al trapianto nelle migliori condizioni generali possibili, cioè senza sintomi, con una milza il più piccola possibile e numerose sono le esperienze a questo riguardo che ci mostrano come Ruxolitinib sia efficace nel ridurre la spenomegalia e migliorare le condizioni generali e favorire l'arrivo a un trapianto in migliori condizioni cliniche generali. Ma ci sono anche delle esperienze di Ruxolitinib all'interno del regime di condizionamento e queste sono molto precoci e i risultati si avranno nei prossimi anni per capire se Ruxolitinib inserito all'interno della chemioterapia che condiziona il trapianto può favorire l'attecchimento delle nuove cellule staminali. Oppure si può pensare di mettere il farmaco dopo il trapianto. E a che scopo? Beh, innanzitutto intuitivamente per ridurre il rischio di recidiva e meno intuitivamente per cercare di limitare quello che è una complicanza potenzialmente fatale del trapianto che è la malattia del trapianto contro l'ospite. E ci sono degli studi attualmente in atto che si apriranno anche nel nostro centro per valutare come questo farmaco possa nel post-trapianto ridurre il rischio di riattivazione di questa temibile complicanza che si chiama GVHD. Nuove fonti di cellule staminali si è accennato questa mattina questa è l'esperienza italiana del gruppo genovese quindi del centro trapianto dell'ospedale San Martino di Genova che ha analizzato tutti i suoi trapianti nell'arco dei 15 anni. In 15 anni al San Martino di Genova sono stati effettuati 95 trapianti per mielofibrosi e vedete come nel corso degli anni queste sono curve di sopravvivenza le avete già viste questa mattina e penso che le sappiate riconoscere vedete come l'andamento dei trapianti per mielofibrosi negli ultimi 4 anni sia migliore di quello dei precedenti 10 anni e questo perché i colleghi di Genova hanno analizzato la loro casistica hanno verificato che dal 2011 in avanti hanno verificato meno ricadute e una riduzione della mortalità legata al trapianto probabilmente anche perché sono disponibili migliori terapie di supporto ma tra i fattori che sono significativamente diversi in questi due periodi di trapianto gli autori documentano che nell'ultimo lustro i pazienti trapiantati hanno utilizzato più frequentemente un donatore aploidentico e più frequentemente un regime di chemioterapia alternativo il TBF quindi c'è spazio per agire anche sul tipo di donatore e su nuovi regimi di condizionamento grazie per l'attenzione